L'incubo di un imprenditore di Roseto è iniziato dieci anni fa quando nel 2004, date le difficoltà economiche e la stretta sul credito ricevuta dalle banche, si è rivolta ad un ROM per un prestito di 2000 euro. Da allora è stato un susseguirsi di minacce verbali e richieste di denaro sempre più pressanti, fino a quando esasperato e chiuso in un tunnel senza uscita, l'imprenditore non è andato a denunciare tutto ai carabinieri di Giulianova. Dal suo racconto sono scattate le manette per Emilio Mosca, 69 anni di Collecorvino, arrestato in flagranza per il reato di estorsione. In un pomeriggio intero ci ha un po' raccontato tutto il suo calvario, tutta la sua vicissitudine che l'ha portato comunque a una sorta quasi di fallimento e quindi a raccontarci un pochino questa schiavitù nei confronti di questa persona. A quel punto, dopo aver comunque formalizzato il tutto, nel pomeriggio di ieri, visto che era stato nuovamente contattato per l'adazione di denaro, quindi doveva dare 3000 euro, è stato organizzato un servizio logicamente che è andato a buon fine. Abbiamo arrestato Mosca Emilio, questa persona, questo ROM di quasi 70 anni della provincia di Pescara che adesso comunque è ristretto nel carcere di Teramo. Quello che Emilio Mosca aveva stretto al collo dell'imprenditore era un vero e proprio cappio. È tuttora difficile quantificare l'ammontare della somma che in 10 anni gli è stata estorta, almeno 50.000 euro ed una macchina di media cilindrata data in regalo al suo guzzino. Altrettanto difficile dimostrare, ma su questo stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Giulianova, che si tratti di usura. Dalla perquisizione eseguita all'arresto all'interno dell'abitazione di Mosca sono emersi elementi importanti, pizzini che raccontano degli scambi di denaro, ma il lavoro, dicono i carabinieri, è appena all'inizio. Quello che conta è che i cittadini vadano a denunciare e collaborino con le forze dell'ordine, solo così si potrà combattere l'estorsione e l'usura. Trovino il coraggio magari di venire presso i carabinieri perché comunque bisogna porre fine a questa situazione, che altrimenti non può trovare altra liberazione.